All'inizio dell'Ottocento c'è uno scrittore americano che si chiama Washington Irving, molto famoso in America, meno da noi, che scrive un libro che si intitola proprio La vita e i viaggi di Cristoforo Colombo. Washington Irving sa che ci sono stati dei dotti a Salamanca che hanno criticato Colombo e che non volevano dargli i soldi. Non sa nient'altro, descrive questa scena meravigliosa, sono pagine e pagine straordinarie, con tutta questa coalizione di ignoranti che cerca di fermare il progresso della verità. E quindi tira in ballo gli antipodi, è la tenda della Bibbia, è il profeta Isaia, come se i dotti del Quattrocento fossero ancora fermi, come mille anni prima, a discutere di quelle cose lì. E crea questa immagine meravigliosa, il libro in America lo leggono tutti, questa immagine di Colombo e dei dotti di Salamanca si imprime per sempre nella memoria collettiva. In America la si ritrova tuttora nei libri di scuola e del resto. Il Campidoglio di Washington ha delle porte di bronzo, Columbus Doors, dove è proprio immortalato nel bronzo Colombo che eroicamente discute con i dotti di Salamanca. E quindi questa immagine si radica per sempre. Colombo rappresenta la modernità illuminata contro la superstizione e l'ignoranza del passato. Gli esseri umani hanno bisogno di una superficie su cui vivere, che in genere deve essere piatta. Il creatore è onnisciente, quindi lo sa benissimo che noi abbiamo bisogno di una superficie piatta per vivere. Il creatore è infinitamente saggio e quindi naturalmente ha dato alle sue creature tutto ciò di cui hanno bisogno, sottointeso una superficie piatta su cui vivere. Questa è una prova teologica che la Terra non è una sfera. Questo brano è di un signore americano dell'Ottocento, che si chiama William Carpenter, che nel 1885 ha pubblicato a Baltimora, a sue spese, va detto, a onore dell'editoria americana, un libro intitolato Le cento prove che la Terra non è una sfera. In altre parole, è la prima volta nella storia che viene scritto un libro per dimostrare che la Terra è piatta e siamo in America alla fine del 1800. Queste cento prove sono fantastiche, cercatelo in internet, c'è tutto e leggetevelo. La prima prova è questa. Se uno sale con un pallone e guarda giù, si vede benissimo che è piatta. William Carpenter non è solo. Alla fine dell'Ottocento nasce in America la società della Terra piatta, che esiste ancora. Andate a cercare, c'è il sito internet, Flat Earth Society. Sono alcune migliaia di persone convinte che la Terra è piatta e che ci fanno credere che è rotonda. Perché ci fanno credere tutto quello che vogliono. Ci hanno fatto credere che siamo andati sulla Luna, è tutta una montatura. In altre parole, oggi, forse per la prima volta, esiste gente che crede davvero che la Terra è piatta. E lo crede perché è convinta che tutto quello che ci dicono è un inganno. Che qualunque cosa ci dicono bisogna pensare che è falsa, perché c'è la congiura per ingannarci. Nel Medioevo c'è un libro famosissimo. È un libro di viaggi immaginari. Non è come il libro di Marco Polo, che magari abbellisce, anzi abbellisce molto, però insomma lui ci è andato in Cina. Il libro di cui vi sto per parlare si chiamano I viaggi del Cavaliere Mandeville. Sono proprio inventati. Il Cavaliere Mandeville non è mai esistito. Però descrive questo libro un'infinità di viaggi nel mondo e racconta com'è fatto il mondo. È un libro, tanto per cambiare, di enorme successo. Nel corso del Medioevo, nel 3-400, viene tradotto in tutte le lingue. A costo di annoiarvi vi darò anche la cifra delle edizioni a stampa. Viene stampato, appena inventano la stampa, entro l'anno 1500 fanno 35 edizioni a stampa di questo libro. Parentesi, vedete com'è comoda questa cosa. Uno vuole sapere quali libri erano più popolari, quali libri erano più letti. Vai a contare le edizioni a stampa e così hai la prova provata che un libro lo leggevano tutti. Nei viaggi di Mandeville si racconta che i navigatori, quando vanno in giro per i mari e vanno verso sud, a un certo punto arrivano in dei posti dove non si vede più la stella polare. È un ragionamento che abbiamo già fatto, lo faceva già Aristotele. Ma qui lo ritroviamo in un libro medievale e soprattutto in un libro scritto per il grande pubblico. Un best seller se volete. Tant'è vero che io adesso ve lo cito direttamente nella traduzione italiana medievale. Dice l'autore, appunto, i navigatori che vanno a sud dopo un po' non vedono più la stella polare. Per la quale ragione si può comprendere che il mondo si è di rotonda forma. E questo appare, notate bene, e questo appare per esperienza e per sottile indagazione. È ancora sempre la coppia di Sant'Agostino mille anni prima. Ci sono due modi per sapere le cose. Esperienza, far l'esperimento, e sottile indagazione. Ci penso su e ci arrivo. E continua Mandeville Che se si trova a passaggio da nave ed è gente che volessero andare cercando il mondo se li potrebbe andare con navigli intorno al mondo. Siamo 150 anni prima di Cristoforo Colombo, più o meno. Naturalmente Mandeville, specialmente nelle versioni tradotte, nelle lingue volgari, come dire, usa un linguaggio un po' grossolano, comprensibile a tutti. Lui vede la terra rotonda, e però, errore che non so se lo facciamo anche noi, forse inconsciamente sì, Mandeville dice sì, c'è il sopra e c'è il sotto. Se si gira e si va verso sud, si va circolando la rotondità della terra e del mare, perde sotto il nostro paese ed è qua. Noi stiamo di sopra nel nostro paese ed è qua. E se andiamo a sud, andiamo sotto. Ma non succede niente se andiamo sotto. Va tutto bene lo stesso. E dice Mandeville però, Certo che sembra strano, perché gli ignoranti ti dicono, ma se vai sotto poi cadi. Alla grossa gente, notate, la grossa gente, la gente grossa è la gente che non è sottile, è la gente che non sa ragionare. Alla grossa gente pare che non si possa andare sotto terra e che se cascaria verso il cielo di sotto. Ma questo non poteria essere. altrimenti che se noi cascassimo della terra dove noi siamo, sopra di loro. In altre parole, non è che noi siamo sopra e loro sotto, ma dal punto di vista loro siamo noi che siamo sotto. Noi non caschiamo mica verso l'alto, no? E neanche loro cascano verso l'alto. È un po' complicato da spiegare, ma il concetto è abbastanza chiaro. A questo punto siamo entrati in un discorso che non c'entra più con la terra piatta, perché come vedete che la terra è rotonda, non c'è proprio la minima discussione possibile. Però siamo entrati in un discorso che c'entra allo stesso. E anche se non c'entrasse mi va di farvelo e quindi ve lo faccio comunque. Dall'altra parte del mondo chi c'è? Ci sta qualcuno dall'altra parte del mondo? Agli antipodi. Anzi, noi diciamo gli antipodi, ma è un termine che viene inventato già nell'antichità per indicare non un luogo, ma per indicare delle persone. Gli antipodi vuol dire quelli che stanno dall'altra parte dei nostri piedi. Noi abbiamo i piedi ben piantati in terra e vai giù, 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 sbuchi dall'altra parte chi ci trovi? Gli antipodi. Che stanno coi piedi per aria, naturalmente. Esistono gli antipodi. Nell'antichità e nel medioevo, non c'era andato nessuno dall'altra parte del mondo. Quindi l'esperienza non gli serviva. L'unico modo per sapere se ci poteva essere qualcuno dall'altra parte del mondo era di provare a ragionarci su. e per secoli nell'antichità e nel medioevo i dotti si sono divertiti da matti a provare a dimostrare che qualcuno ci poteva essere oppure al contrario no, è impossibile, non ci può essere nessuno. Già gli antichi. Quali erano gli argomenti di chi diceva no, non ci può essere nessuno dall'altra parte del mondo? Un argomento lo abbiamo già sentito era quello della grossa gente della gente che non sa ragionare non ci può essere nessuno dall'altra parte del mondo perché cascherebbero giù questo ragionamento lo facevano già gli ignoranti nell'antichità. c'è una pagina di Plinio il Vecchio nella storia naturale che discute di questo primo secolo Plinio il Vecchio dice vabbè, la terra è rotonda lo sanno tutti invece che esistano gli antipodi cioè che ci sia della gente dall'altra parte è una cosa su cui c'è un grosso conflitto notate i termini fra i letterati e il volgo perché il volgo dice Plinio che è un letterato chiaramente e ci tiene a non essere uno del volgo il volgo dice se c'è qualcuno dall'altra parte perché non cadono giù? e Plinio dice esattamente come dirà Mandeville 1300 anni dopo ma è ridicolo pensare che se sono dall'altra parte cadano giù come sarebbe ridicolo pensare che cadiamo giù noi verso l'alto nessuno cadde giù la legge di gravità non l'avevano ancora calcolata ma che stiamo tutti attaccati alla terra questo l'avevano capito perfettamente con l'arrivo però del cristianesimo la discussione sull'esistenza di uomini dall'altra parte della terra diventa più serrata perché ci sono dei nuovi argomenti da tenere presenti e a quel punto l'idea che ci possa essere della gente dall'altra parte del mondo comincia a sembrare più difficile ci sono due ragioni più di uno anzi beh un ragionamento scusate adesso ho un po' percorso i tempi ma c'era un argomento che usavano già anche gli antichi ve lo sbrigo in fretta già gli antichi dicevano come è fatto il mondo vabbè ai poli fa un freddo cane poi c'è una zona temperata dove abitiamo noi per fortuna e in mezzo fa un caldo da morire all'equatore c'è un caldo torrido siccome non c'era mai stato nessuno gli antichi a un certo punto si convincono che all'equatore fa un tale caldo che non ci può passare nessuno in mezzo fin qui niente di male ma poi arrivano i cristiani e i cristiani dicono tutti gli esseri umani discendono da Adamo e Adamo è stato creato in un posto preciso in Palestina poi da lì il genere umano si è diffuso ma come facevano ad arrivare dall'altra parte del mondo se in mezzo c'è la zona torrida dove c'è un calore bruciante e nessuno può passare voi capite noi dobbiamo sempre cercare di immaginare questa gente che non ha modo di saperlo per esperienza che deve provare a ragionarci su e ci ragiona su in base agli elementi che ha tutti gli uomini discendono da Adamo attraversare l'equatore è impossibile perché lì si brucia e quindi non c'è andato nessuno dall'altra parte e quindi non ci può stare nessuno e poi c'è un secondo motivo il mondo è coperto in parte di terra emersa e in parte di acqua tenete conto che il settimo secolo è nel pieno di quella fase del medioevo che gli inglesi chiamano tuttora dark ages i secoli oscuri il settimo secolo è un momento in cui c'è veramente un basso livello culturale scrivono poco non ci hanno lasciato grandi risultati è il momento nel complesso di maggior declino culturale del medioevo nell'idea popolare che poi condividiamo un po' tutti di un medioevo oscuro di un medioevo superstizioso di un medioevo arretrato rispetto allo splendore dell'antichità ecco in questa idea che più o meno tutti condividiamo rientra anche questa immagine l'idea che a quel tempo fossero tutti convinti che la terra è piatta tutti non soltanto quelli che normalmente non si preoccupano di queste faccende ma anche i dotti fa parte della nostra immagine di medioevo questa idea di dotti in realtà ignorantissimi e superstiziosi anche loro convinti che la terra è piatta o perlomeno che non osano dire nient'altro che non osano insegnare niente di diverso per paura di essere puniti dalla chiesa questa idea è così diffusa che probabilmente non devo dimostrarvi che è diffusa la condividiamo un po' tutti o ci abbiamo creduto un po' tutti fino a un certo momento che nel medioevo si immaginassero la terra piatta quindi è chiaro che questi arretrati medievali non sapevano che la terra è rotonda in questa nostra immagine è centrale naturalmente la figura di Cristoforo Colombo se non ci fosse Colombo non avremmo così in testa questa idea di dotti ignoranti che credono che la terra sia piatta Cristoforo Colombo è fondamentale perché Cristoforo Colombo lo sappiamo tutti ha avuto grandi difficoltà per far approvare il suo progetto per trovare i finanziamenti per salpare con le tre caravelle e se Cristoforo Colombo ha avuto tante difficoltà la versione che più o meno tutti abbiamo in mente è che loro gli altri non ci credevano che la terra è rotonda e quindi non ci credevano che lui salpando da palos sarebbe potuto arrivare dall'altra parte del mondo abbiamo tutti in mente questa immagine epocale vedremo poi quando è nata questa storia di Cristoforo Colombo davanti ai dotti di Salamanca appunto questi dotti ignorantissimi che in tutti i modi cercano di boicottare Colombo perché non ci credono che la terra è rotonda e questo tema è oggi diffusissimo per esempio sono innumerevoli le vignette le battute le barzellette su Cristoforo Colombo e la terra piatta se andate a vedere su internet si trovano c'è la vignetta delle caravelle che arrivano al limite del mondo ed effettivamente la terra è piatta e le caravelle cominciano a precipitare e tutti i marinai gridano a Colombo ah allora era rotonda eh ricorderei ancora un lavoro di un bravissimo fumettista nostro Altan qualche decennio fa Altan ha scritto un fumetto su Cristoforo Colombo e nel Cristoforo Colombo di Altan memorabile devo dire a un certo punto si vede Colombo che è in viaggio nell'oceano ormai da un bel pezzo e non arriva alla terra non si vede niente e c'è questa vignetta c'è Colombo sulla tolda che tamburella nervosamente con le dita e mugugna è piatta maledetta è piatta dunque come voi sapete almeno lo sa chi c'era ieri o l'altro ieri qui il mio mestiere è di fare il guastafeste cioè di dire dopo aver fatto vedere questa bellissima immagine di questo mondo folle che crede che la terra sia piatta di dire non è vero niente questa volta è così facile che se dovessi soltanto parlarvi di quello finiremmo in dieci minuti nel medioevo lo sapevano benissimo che la terra è rotonda come faccio a dirvelo ecco se qui avessimo potuto proiettare delle immagini ve lo facevo vedere subito ma è un esperimento che potete fare quando tornate a casa domani mattina magari andate a cercare su un libro o su internet una qualunque immagine di un imperatore medievale una qualunque che sia la famosa statuetta di bronzo di Carlo Magno a cavallo che sia una miniatura che raffigura il Barbarossa per esempio o che sia un bassorilievo che rappresenta un imperatore bizantino tutti sempre hanno in mano nella sinistra di solito tutti sempre hanno in mano il simbolo del loro potere sul mondo un globo a volte sormontato dalla croce per indicare che il mondo sarà dominato dalla religione cristiana ogni imperatore medievale è raffigurato con un globo in mano per indicare il suo potere sul mondo che come tutti sanno è un globo qual è il vero problema per Colombo l'abbiamo visto che la terra è rotonda lo sanno tutti non ha bisogno di spiegare a nessuno che la terra è rotonda Colombo arriva e dice ecco cosa dice Colombo alla regina Isabella cos'è che si è messo in testa lui proviamo a ricordarci il contesto quella è un'epoca fine 400 in cui si fanno un sacco di soldi col commercio delle spezie ma davvero un sacco di soldi ci si fa il bilancio di uno stato col commercio delle spezie e le spezie vengono in oriente e le spezie per secoli si andava a prenderle in oriente le andavano a prendere i mercanti arabi poi le portavano ad orso di cammello fino all'Egitto e lì ci si imbarcava si attraversava il Mediterraneo pieno di pirati e si arrivava finalmente a Venezia o a Genova con queste spezie il costo era terrificante prima di Colombo ma non tanto tempo prima i portoghesi hanno scoperto che invece di infognarsi nel Mediterraneo e aspettare la carovana del Mar Rosso si può fare con la nave il giro dell'Africa fai il giro dell'Africa doppi il capo di buona speranza e arrivi in India e ci metti meno tempo e quindi sul carico di spezie ci fai un profitto molto maggiore e i portoghesi si arricchiscono Colombo va dalla regina di Spagna e le dice io ho un'idea che ci farà guadagnare un sacco di soldi perché ho pensato una rotta molto più breve per arrivare in Oriente dice Colombo siccome la terra è rotonda se uno parte dalla Spagna verso Occidente fa tutto il giro e arriva in Oriente e così freghiamo i portoghesi allora non è vero niente della storia della commissione di Salamanca i dotti vediamo quello che noi sappiamo è che Colombo presenta questo progetto alla regina con tutti i calcoli quanto tempo ci vuole quanto è lunga la strada e la regina siccome si tratta di spendere parecchi soldi fa quello che probabilmente si farebbe anche oggi nomina una commissione una commissione di specialisti che devono valutare il progetto di Colombo non sono i dotti dell'università di Salamanca è una commissione di esperti che si riunisce varie volte dopo qualche mese danno un primo parere negativo ma siccome Colombo è molto raccomandato e ha molti amici influenti alla commissione dicono un supplemento di indagine pensateci ancora un po' ci pensano parecchi anni si riuniscono qualche volta a Salamanca qualche volta a Cordova dove c'è la corte che si sposta cosa dice la commissione la commissione dice questo progetto di Colombo è molto ardito ci sarebbero dei problemi ovviamente non c'è più bisogno che ve lo dica che nessuno nella commissione si alza per dire che la terra è piatta perché nella commissione dicono si lui vuole andare di là ma questo fatto della zona torrida però poi è vero che non siamo proprio sicuri che sia così torrida e poi magari stando solo pazienza questo lasciamo perdere il vero problema è la commissione che dice Colombo ci ha dato certe misure secondo lui il viaggio dura tanto e si può fare ma noi che abbiamo letto gli scienziati greci abbiamo letto Eratostene che ha calcolato la circonferenza della terra a noi i calcoli di Colombo non ci torna mica tanto secondo noi non ci arriva è molto più lungo il viaggio di quello che dice Colombo perciò noi consigliamo di non spendere soldi per questa roba il dramma col senno di poi è che avevano ragione loro Colombo aveva completamente sbagliato i calcoli non è ancora chiaro quanto in mala fede e quanto perché ci credeva così tanto ma è stato ricostruito il modo in cui Colombo ha fatto i suoi calcoli che distanza c'è dalla Spagna all'estremo oriente facendo il giro da occidente Colombo ha fatto di tutto ha letto Marco Polo ha provato a calcolare quanto è grande la Cina secondo Marco Polo e si è tenuto largo perché se la Cina è molto grande si spinge molto in là e quindi ci si arriva prima per mare Colombo ha considerato tutti i calcoli che esistevano sulla circonferenza della Terra e ha preso il più basso e l'ha dato per buono poi ha barato sulle misure c'erano delle misure espresse in miglia marittime lui ha fatto finta che fossero miglia terrestre che sono più corte insomma alla fine Colombo presenta un calcolo in cui dice la distanza dalle Canarie cioè perché anziché calcolare dalla Spagna già che c'è calcola dalle Canarie che sono già un po' più in là risparmia dice Colombo la distanza dalle Canarie all'estremo oriente sono 4.500 km lui si esprime in miglia ma insomma comunque corrisponde a questo 4.500 km sapete quant'è davvero la distanza dalle Canarie all'estremo oriente tenetevi forte 22.000 km in altre parole Colombo parte e normalmente dovrebbero morire tutti di sete dopo un mese nel pieno dell'oceano è salvato dal fatto che va a sbattere contro l'America che nessuno sapeva che c'era ed essendo lì a metà strada Colombo arriva a toccare terra e quindi alla fine ha avuto ragione lui evidentemente e infatti la principale cosa che gli scienziati del Cinquecento imparano dalla scoperta dell'America è ci eravamo sbagliati credevamo che le terre emerse fossero poche e che l'insieme del globo fosse coperto d'acqua invece non è vero abbiamo scoperto cito da un trattato cinquecentesco che non c'è quella gran quantità d'acqua che si credeva come mai nel medioevo almeno i dotti sapevano benissimo che la terra è una sfera ma perché in realtà lo sapevano già gli antichi e non è vero che le conoscenze degli antichi si sono perdute tante cose sì tanti dettagli sì ma le cose di sostanza non potevano perdersi gli antichi greci sapevano perfettamente che la terra era rotonda e come facevano a saperlo ragioniamo un attimo su questo perché gli autori medievali sono gli eredi di questi e sanno che la terra è rotonda perché fanno gli stessi ragionamenti che avevano fatto tanti secoli prima aristotele o tolomeo e sono ragionamenti diciamolo fra parentesi che possiamo fare anche noi se mai ci venisse il dubbio perché oggi è facile uno dice ho visto le foto gli astronauti dalla luna hanno fatto le foto la terra è rotonda comodo prima come si faceva il fatto sconvolgente è che prima era facilissimo capire che la terra è una sfera bastava mettersi a ragionare dice aristotele e questo in verità non è un ragionamento è piuttosto osservazione empirica dice aristotele i navigatori che vanno verso sud ci dicono che man mano che vai verso sud le costellazioni in cielo si spostano salgono e compaiono nuove stelle che prima non si vedevano e quando ti sei molto allontanato le costellazioni sono tutte diverse e aristotele dice questo si può spiegare solo se la terra è una sfera perché se la terra fosse piatta muovendoti le costellazioni rimarrebbero sempre quelle aristotele dice anche un'altra cosa che è veramente conclusiva anche perché il viaggiatore che è andato fino al sud è chi è che lo conosce ma invece ognuno da casa sua può fare questo semplicissimo esperimento la luna l'ombra della terra si proietta in certi momenti sulla luna quando noi vediamo la luna come una falce è perché c'è l'ombra della terra proiettata sulla luna l'ombra della terra proiettata sulla luna è sempre circolare c'è un solo corpo che proietta un'ombra che è sempre circolare qualunque sia la posizione perché la luna sorge e sale su e poi tramonta e l'ombra della terra è sempre circolare dice aristotele non c'è niente da fare ragazzi soltanto una sfera proietta un'ombra che è sempre circolare e poi dopo aristotele viene tolomeo il più grande geografo dell'antichità il più grande geografo anche se pensava che la terra fosse al centro dell'universo e per tanti secoli anche i cristiani ci hanno creduto il più grande geografo tolomeo anche se come vedremo quando torneremo a parlare di cristoforo colombo parleremo di quanto è grande la terra di quant'è la circonferenza della terra tolomeo su quello ha fatto confusione ma non voglio anticipare tolomeo però una cosa la dice chiaramente la terra è rotonda vuoi la prova sei su una nave che si avvicina alla terraferma sulla terraferma ci sono delle montagne prima vedi la punta delle montagne poi man mano che ti avvicini le montagne crescono cominci a vedere la base e poi quando sei proprio vicino vedi anche la spiaggia dice tolomeo questo può succedere soltanto se ammettiamo che contrariamente a quello che noi crediamo la superficie del mare è leggermente incurvata altrimenti non si spiegherebbe questa cosa bene voi direte però giustamente va bene gli antichi lo sapevano ma e anche i medievali lo sapevano l'abbiamo visto prima ma siamo sicuri che c'è un passaggio diretto nessuno ha mai messo in dubbio queste cose la Bibbia cosa dice e allora fermiamoci su questo perché è verissimo che i primi cristiani non tutti i dotti del medioevo che è durato mille anni ma i primi cristiani qualche problema con questo fatto della terra rotonda ce l'hanno avuto perché se uno legge la Bibbia nella Bibbia non viene fuori che la terra è rotonda non viene fuori niente di chiaro però nella Bibbia ci sono alcuni passi che con tutta la buona volontà non quadrano mica tanto con l'idea che la terra sia una sfera la Bibbia teniamolo presente è un insieme di opere scritte nell'arco di parecchi secoli nel mondo ebraico c'è tutta dentro la tradizione storica e sapienziale di un piccolo popolo che non era un popolo dalla mentalità scientifica gli ebrei non erano i greci gli ebrei hanno una mentalità allegorica immaginaria religiosa e nei loro libri cioè nella Bibbia non si preoccupano di verità scientifiche parlano un linguaggio di un altro tipo vi faccio qualche esempio per capire come mai i primi cristiani che sapevano dalla scuola che la terra è rotonda e quando leggono la Bibbia fanno un po' fatica a mettere d'accordo questa cosa con quello che hanno imparato a scuola perché nella Bibbia per esempio ogni tanto ci sono dei passi in cui che Dio li perdoni loro dicono i quattro angoli della terra e voi capite che i quattro angoli della terra se uno lo prende alla lettera nell'Apocalisse per esempio Apocalisse 7 1 poi vidi i quattro angeli essi stavano in piedi ai quattro angoli della terra dice qualcuno dei primi cristiani vuol dire che la terra ha quattro angoli cosa ci vengono a dire i greci che è una sfera dove lì ha quattro angoli la sfera ma soprattutto quello che si trova di più nella Bibbia è l'immagine del cielo come una tenda piantata sulla terra ricordiamoci che gli ebrei sono un popolo di pastori sono un popolo seminomade per loro la tenda è un'immagine estremamente familiare salmo 104 hai disteso il cielo come una tenda ancora il profeta Isaia non avete capito come è stato fondato il mondo? Dio siede sulla cupola che copre la terra di lassù gli uomini sembrano formiche egli distende il cielo come un velo lo dispiega come una tenda dove abitare allora i primi cristiani leggono questi testi e dicono beh se la terra ha quattro angoli e il cielo è come una tenda e la terra dove si pianta la tenda dove si pianta il piano con i suoi quattro picchetti ai quattro angoli quindi tra i primi cristiani c'è qualcuno che dice vuol dire che la terra è piatta e sopra Dio ha messo il cielo come una tenda c'è perfino un autore nei primi secoli del cristianesimo si chiama Cosma Cosma Indicopleuste che in greco scrive su questa faccenda e prova perfino a immaginare fa anche dei disegni ci sono dei disegni nei codici delle sue opere di questo cielo teso come una tenda sopra una terra che a questo punto è piatta sto parlando dei primi cristiani e non a caso ho sempre insistito i primi cristiani tenete conto di cosa hanno in testa i primi cristiani i primi cristiani che vivono di persecuzioni hanno un atteggiamento estremamente ostile verso la civiltà in cui vivono i primi cristiani sono convinti che loro hanno dentro una verità nuova e che tutte le verità di prima è tutta spazzatura da buttare via i primi cristiani sono convinti che i filosofi greci e gli scienziati greci bruceranno all'inferno e che tutte le cose che loro credevano sono false come i loro falsi dei e quindi in quest'epoca in cui il cristianesimo è molto aggressivo è molto sprezzante verso tutta la civiltà antica appunto si può trovare qualche autore cristiano che dice la terra è piatta piccola parentesi la perdonerete al medievista che vi sta parlando questi pochissimi autori che dicono la terra è piatta non sono autori medievali sono autori antichi siamo ancora nell'antichità quando è la tarda antichità quando il cristianesimo sta venendo fuori nella tarda antichità qualche autore che ha detto l'ho letto nella bibbia la terra è piatta c'è stato se non che non dura niente perché nello stesso mondo cristiano questi che leggono la bibbia alla lettera e che si mettono a discutere sulla forma della terra a un certo punto cominciano a risultare imbarazzanti tenete conto che l'atteggiamento dei cristiani che si considerano fuori dal mondo ostili al mondo ostili alla civiltà in cui vivono non dura mica granché basta che arrivi Costantino quando arriva Costantino e finiscono le persecuzioni e l'impero comincia a proteggere i cristiani e pian piano tutta la società romana e greca diventa cristiana allora è finita con questa storia di contrapporsi alla civiltà classica non è più tempo di contrapposizioni e allora i più importanti padri della chiesa si preoccupano si preoccupano perché questi cristiani che vanno in giro dicendo la bibbia dice così la terra è piatta fanno una figura grottesca e i padri della chiesa non hanno voglia di dare l'impressione che i cristiani sono una manica di ignoranti analfabeti potrà sembrare un'espressione forte ma è quello che dicono loro ve ne cito uno l'ho già citato nei giorni scorsi perché è uno dei pensatori che hanno influenzato più di tutti il pensiero medievale Sant'Agostino fine del quarto inizio del quinto secolo Sant'Agostino si pone proprio questo problema c'è qualche cristiano che si mette a discutere con gli scienziati e a dire che la terra non può essere rotonda perché nella bibbia c'è scritto che ha quattro angoli e Sant'Agostino dice io la bibbia l'ho letta non c'è niente di preciso sulla forma della terra è chiaro che al signore non importa niente della forma della terra lui l'ha creata noi ci abitiamo ma non è un problema non è una verità di fede è ridicolo che noi cristiani ci mettiamo a discutere di queste cose dal punto di vista della salvezza la forma della terra non importa niente a nessuno dice Sant'Agostino è una di quelle tante cose che dobbiamo lasciare agli specialisti e credere agli specialisti perché non c'è un dogma su questo e Sant'Agostino dice questo ve lo cito spesso un pagano si intende della terra e dei cieli e del movimento delle stelle e questa conoscenza la possiede con certezza perché viene dalla ragione e dall'esperienza se permettetemi fermo un attimo su questa coppia che rimarrà centrale nel pensiero medievale come fai tu a sapere le cose ci sono due modi uno è l'esperienza l'ho provato ho toccato con mano l'altro ancora meglio perché è più nobile non hai bisogno di fare l'esperimento ci arrivi ragionando l'altro modo è quello che ti dice la tua ragione e dunque continua Sant'Agostino per uno che non è credente è offensivo è spiacevole sentire un cristiano che dice stupidaggini su queste cose pretendendo che quello che dice è basato sulle sacre scritture e Sant'Agostino continua dovremmo fare tutto quello che possiamo per evitare una situazione così imbarazzante ed evitare che i non credenti vedano solo ignoranza nei cristiani e ridano di noi queste cose Sant'Agostino le scrive in un libro che si intitola De Genesi Ad Litteram cioè sull'interpretazione letterale della Genesi in cui Sant'Agostino dice non bisogna interpretarla alla lettera alla Genesi sono immagini sono metafore non ha nessun senso interpretarla alla lettera e infatti Agostino nella stessa opera quando parla della terra dice la terra è un globo è ovvio che è un globo con una faccia illuminata dal sole e una faccia in ombra e Sant'Agostino si preoccupa anche di dire quando la Bibbia descrive la tenda si tratta di una metafora non dovete prenderla alla lettera bene allora tutti sapevano che la terra era rotonda beh piano perché c'è sempre un problema ci sono quelli che si occupano di queste cose e che ci ragionano su ci sono i dotti e poi ci sono anche gli altri ci sono anche gli ignoranti gli ignoranti che magari mai nella loro vita si sono preoccupati di questi problemi ma la prima volta che senton dire che la terra è rotonda dicono e come mai io non la vedo mica rotonda la vedo piatta gli ignoranti ci sono e nel medioevo è un tema che viene fuori spesso proprio questo noi dotti lo sappiamo che la terra è rotonda certo ogni tanto con gli ignoranti bisogna avere pazienza bisogna spiegarglielo nel dodicesimo secolo esce un trattamento è un trattato di un teologo che si chiama Guglielmo di Conch è un trattato di filosofia in cui c'è un capitolo che si intitola la forma della terra questo teologo del dodicesimo secolo siamo 300 anni prima di Cristoforo Colombo si pone il problema che noi dotti lo sappiamo che la terra è rotonda ma come dobbiamo fare per spiegarlo agli ignoranti e allora immagina un dialogo è un dialogo tra un filosofo e un laico tra un teologo dotto e uno che non essendo un uomo di chiesa poveretto non ha mai letto un libro il laico in questo che fa la figura dello scemo a cui si spiegano le cose come stanno è il duca di Normandia perché evidentemente non sono soltanto i poveri anche i duchi hanno altro da fare nella vita che preoccuparsi della forma della terra e quindi il teologo chiacchiera col duca e il duca gli dice ho qualche dubbio sulla forma della terra ma davvero è rotonda come dite voi io non la vedo mica e il teologo gli risponde certa gente è come gli animali perché si fida delle sue sensazioni piuttosto che della ragione diciamolo fra parentesi nel medioevo sono innamorati della ragione i dotti del medioevo parlano continuamente della ragione hanno questa fiducia inspiegabile nell'uomo sono convinti che se l'uomo si mette lì e ragiona può venire a capo di tutto e che quindi basta ragionare e dice il filosofo appunto certa gente è come gli animali non sa usare la ragione e quindi dice che la terra è piatta perché quando va in giro non si accorge che è rotonda e ho capito che se vai in giro non ti accorgi che è rotonda ma ragiona dice il filosofo dodicesimo secolo e gli fa un ragionamento se la terra fosse piatta sono un po' complicati questi ragionamenti queste dimostrazioni ma vi infliggo ancora anche questa se la terra fosse piatta immagina una città posta nell'estremo oriente appena sorge il sole è già mezzogiorno perché il sole è già subito sopra la verticale quindi in quella città fra l'alba e mezzogiorno passerebbe un attimo poi prima del tramonto hai voglia perché il sole c'è ancora tutto invece dice il filosofo ci risulta che l'intervallo fra l'alba e mezzogiorno è uguale in tutto il mondo di conseguenza la terra non è piatta il caso di questo trattato che vi ho menzionato potrebbe farci pensare che ci fosse come dire una spaccatura netta i dotti sanno che è rotonda tutti gli altri sono convinti che è piatta non è proprio così e che tutti gli altri giustamente come molti di noi prima di stasera non si erano mai preoccupati di questo problema e non ci pensano tanto ma c'è nel medioevo un chiaro sforzo di come dicevano loro volgarizzare cioè rendere comprensibili anche agli ignoranti le cose più importanti a un certo punto ci sono i dotti del regno che discutono sulla forma della terra e si dicono è rotonda no non è vero è piatta sottopongono al re la questione e il re esce a pensare poi torna ha in mano qualcosa che non si vede e il re dice ho deciso la terra è rotonda ed è anche piatta e tutti dicono scusa come è possibile e il re dice io la chiamo la teoria della pizza e fa vedere una pizza che ovviamente è rotonda ed è anche piatta nel settimo secolo in quel posto sperduto che è l'Inghilterra il monaco Beda scrive una serie di opere uno potrebbe dirmi si Beda scriveva ma chi lo sapeva no le opere di Beda sono state copiate hanno circolato esistono moltissimi manoscritti delle opere di Beda stavano in tutte le biblioteche Beda scrive traduco dal latino noi chiamiamo la terra globo non perché non ci siano delle irregolarità di montagne pianure ma perché se consideriamo tutto l'insieme la circonferenza della terra rappresenta un globo perfetto Beda si preoccupa della forma della terra anche in un'altra occasione scrive un trattato sul calcolo del calendario sui tempi sui giorni sugli anni parentesi perché si occupano di questa roba ma perché la chiesa medievale è interessatissima al calcolo del calendario bisogna calcolare quando è la Pasqua tutto l'anno come dire religioso dipende da dei calcoli bisogna saperle queste cose Beda scrive un manuale su come si calcola la Pasqua e a un certo punto gli viene da dire vi sarete accorti che d'estate i giorni sono più lunghi e d'inverno i giorni sono più corti perché dice Beda il motivo per cui i giorni non sono tutti uguali è la rotondità della terra rotunditas non per niente nelle pagine della Bibbia e anche nella nostra lingua comune si parla dell'orbe terrestre infatti è sempre Beda che sto citando settimo secolo nel pieno dei secoli bui infatti è un'orbe posta al centro dell'universo e vabbè qui dobbiamo scusarle non è che abbiamo capito tutto per loro come per Tolomeo nell'antichità la terra era al centro dell'universo ma è un'orbe dice Beda rotonda quando Beda dice che la terra è rotonda si accorge che c'è qualcosa che non va non basta dire che è rotonda perché rotonda è una parola ambigua Beda dice la terra è rotonda non nel senso di uno scudo ma piuttosto di una palla rotonda allo stesso modo da tutti i lati dopo Beda nel corso del medioevo continuano a uscire trattati che parlano dell'universo dell'astronomia e della forma della terra e si vede che gli autori di questi trattati continuano a avere qualche problemino con il linguaggio perché appunto dire che la terra è rotonda rischia di non bastare e quindi c'è tutto uno sforzo di far capire anche a quelli magari non tanto colti a cui si cercano di spiegare queste cose e allora è meglio spiegarle con delle immagini piuttosto che con dei teoremi vi cito qualche brano da vari trattati medievali sulla forma della terra la terra è rotonda come una palla questo l'aveva detto anche Beda se non ci fossero ostacoli potremmo camminare tutto intorno al mondo come una mosca su una mela dopodiché ci sono anche autori che dicono senti risolviamolo questo problema del linguaggio rotonda non va bene però c'è una parola che non può suscitare dubbi sfera il più importante trattato medievale sulla forma della terra è stato scritto da un monaco inglese nel 200 un monaco che si chiama Giovanni di Sacrobosco e questo trattato sulla forma della terra si intitola in latino de sfera trattato sulla sfera tenete conto lo dico anche qui come nel caso di Beda perché uno potrebbe dire sì lui l'ha scritto ma chi lo sapeva il trattato di Sacrobosco era diffusissimo era il libro di testo standard nelle università medievali appena hanno inventato la stampa hanno stampato il de sfera di Sacrobosco è uno dei primissimi libri stampati già nel 1471 quando la stampa l'avevano appena inventata nel giro di 30 anni escono 25 edizioni a stampa del trattato di Sacrobosco la sfera in altre parole quando Colombo discute con i dottori di Salamanca ma sarà poi vero che Colombo ha discusso con i dottori di Salamanca vedremo anche questo quanto sia vero ma in ogni caso quando Colombo va a chiedere i finanziamenti in tutte le biblioteche d'Europa c'è a stampa ormai il trattato del Sacrobosco sulla terra che si intitola la sfera ragionano i filosofi antichi e medievali il mondo è fatto di terra emersa e di acqua in che proporzione per moltissimo tempo hanno detto poca terra e tanta acqua Aristotele e voi sapete che influenza che ha avuto Aristotele per tutto il Medioevo Aristotele dice uno a dieci un decimo di terra emersa tutto il resto acqua le terre emerse sono piccole Cicerone che non è un superstizioso medievale Cicerone a un certo punto dice sì le terre emerse sono come delle macchioline sulla superficie della terra il resto è tutta acqua ma allora anche ammettendo che ci sia qualche macchiolina anche dall'altra parte come si fa a attraversare tutto quell'oceano questo lo pensano già gli antichi è impossibile poi arrivano i cristiani i cristiani leggono la Bibbia nella Bibbia c'è scritto che Dio ve lo ricordate tutti prima creò le acque e la terra era interamente ricoperta dalle acque poi Dio fece ritirare le acque per far venire fuori la terra emersa però insomma signori se fece ritirare le acque comunque è evidente che il grosso è coperto di acque e che la terra emersa è piccolissima per tutti questi motivi i filosofi antichi e i teologi medievali dicono non lo sappiamo con certezza ma secondo me dall'altra parte del mondo non c'è niente io non ho detto qualunque cosa vi dicono state attenti perché è falsa però spero di avervi detto qualunque cosa ci dicono non è che ci dobbiamo credere solo perché ce l'hanno detta e se è una cosa a cui teniamo e a cui abbiamo voglia di come dire di credere sul serio ecco non basta che ce l'hanno detta e che l'abbiamo letta ma nei limiti delle nostre possibilità bisogna cercare di andare a controllare